Il MES che abbiamo discusso tanto, immagino continueremo a parlarne. La mia posizione non è mai cambiata. Il MES non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è valutare qual è il quadro di finanza pubblica, valutare quali sono le necessità e una volta definiti tutti i piani, il ventaglio degli strumenti a disposizione, utilizzare quelli che sono nei migliori interessi dell'Italia. Sicuramente il piano che oggi approviamo è un piano con i 209 miliardi che ha un'assoluta priorità nell'interesse dell'Italia. Ci sono dei prestiti molto convenienti, molto consistenti, con una maturità lunghissima, quindi molto vantaggiosi. Sarà questa la priorità e spero che questo possa contribuire a distrarre l'attenzione morbosa che circonda il MES.